partita particolare strana un po da da montagne russe un primo tempo non proprio da empoli per lo meno per come ci avete abituato proprio un grande ritorno nella squadra il tuo gol ha dato il via insomma alla rimonta e poi purtroppo quell'azione finale che ci ha tolto una vittoria che sembrava già già in mano però tutto sommato resta una bella prestazione e resta una classifica importantissima quello che penso che resta più di tutti è la reazione che abbiamo avuto tra primo e secondo tempo perché come hai detto tu nel primo tempo forse non ho giocato come come al solito eravamo forse un po bloccati un po frenati non so perché però ci può anche stare però tra primo e solo tempo cioè inizio e secondo tempo abbiamo avuto penso una reazione anche caratteriale importante abbiamo completamente cambiato l'inerzia della partita e la sensazione del campo era quella di comunque di andarla a vincere la sensazione che avevamo peccato perché abbiamo preso quel gol alla fine dove sono stati bravi anche loro perché hanno fatto una bella azione un bel gol però comunque quello quello che rimane comunque un punto importante in ottica di di un campionato che è lungo che la serie a un campionato lungo difficile e il nostro obiettivo è la salvezza quindi iniziamo a mettere mattoncino dopo mattoncino per quello che è poi il nostro obiettivo finale ciao buonasera dopo 12 partite in percentuale quanto di francesco abbiamo visto cioè in percentuale per essere al top quanto ti manca se ti manca qualcosa perché ci sta facendo vedere grandi cose non lo so non non penso a queste cose sinceramente quello a cui penso è quello di cercare di dare il meglio per questa squadra sono arrivato con con grande entusiasmo questa per me è un'occasione importante un'occasione speciale cerco di mettercela tutta dagli allenamenti alle partite quando vengo chiamato in causa io continuo a lavorare sotto quest'ottica poi uno cerca sempre di fare spera sempre di fare meglio però comunque questi primi due mesi in cui sono arrivato qui a empoli sono contento soprattutto perché ho trovato un ambiente che ti permette di lavorare in un certo modo e ti permette anche di crescere e questo un po diciamo anche diciamo anche quello che che pensano anche tutti gli altri ragazzi ciao buonasera a parte il fatto che di questo passo rischi di superare molto velocemente il papà eusebio con in termini di gol con la maglia dell'empoli ti volevo chiedere della partita di oggi qual è stata la difficoltà secondo te vissuta in campo messa in campo dal genoa che vi ha portato all'inizio della partita penso che loro abbiano ci siano venuti a prendere diciamo in maniera aggressiva e hanno sporcato un po quelle che erano le nostre giocate e noi abbiamo fatto un po fatica inizialmente ad andarli a prendere forse avevamo perso un po di duelli però poi nel secondo tempo siamo entrati veramente con con un altro piglio e abbiamo completamente cambiato inersa la partita e la sensazione quella del campo era veramente che a un certo punto c'era una sola squadra in campo peccato per comandata però come ho detto prima è un punto un punto importante quando sei arrivato qua che ti sei presentato hai detto tra le tante cose voglio dimostrare di meritare questa categoria la stai lo stai dimostrando alla grande il mister ti sta dando fiducia sta le sta giocando quasi quasi tutte e sta giocando in posizioni anche diverse sei un po un jolly della fase offensiva azzurra ti abbiamo messo seconda punta nel loro doppio trequartista nella parte finale della gara di oggi è fatta la trequartista unico c'è una posizione che ti piace maggiormente dove ti senti un pochino più più ispirato al di là della tua grande utilità e chiaramente del metterti al servizio della squadra sinceramente mi piacciono mi piacciono tutte perché comunque alla fine hai grande libertà di movimento poi lo faccio un po con quelle che sono le mie caratteristiche sia quando gioco da punta da secondo trequartista che alla fine cambia poco perché alla fine poi comunque i movimenti sono simili forse in fase di non possesso quando giochi con il doppio trequartista sia un pochino più attento nel senso andare a prendere i loro centrocampisti però sono tutti i tre ruoli che mi piacciono io sono a grande disposizione veramente volevo chiederti se secondo te la sosta del campionato arriva al momento giusto invece se avresti preferito tornare in campo tra sette otto giorni e poi chiedo anche in questo weekend se guarderai una partita in particolare visto che l'Empoli appunto ha già giocato sinceramente veniva in un momento buono forse non è mai bello fermarsi però comunque ne approfitteremo in queste in queste due settimane che poi giochiamo lunedì quindi più di due settimane però ne approfitteremo per arrivare veramente nelle giuste condizioni alla partita di Verona che sarà una partita importante molto importante quindi ci permetterà di lavorare di mettere ancora benzina nelle gambe per farsi possiamo continuare ad avere questo rendimento poi tornerò a casa penso di tornare a casa non so se vedrò le partite starò con mia moglie mio figlio e la mia famiglia mi godo un po' la famiglia in questi giorni la mia è una semplice curiosità anche per sorriderci sopra era il 30 maggio del 2014 quando un cross di Eramo da destra sfortunatamente fu deviato in porta e dette in là la promozione dell'Empoli di Sarri è proprio la porta in cui hai già segnato due gol quella porta in un modo o in un altro porta fortuna all'Empoli e a Di Francesco all'Empoli soprattutto perché quella volta soprattutto mi sa che era la serata della promozione per me era stato un po' diciamo un momento brutto lì perché comunque avevo 19 anni e erano le prime presenze penso di aver fatto prima quell'autocall che il primo gol tra professionisti però penso che anche quel mi ricordo che in quel momento era stata una delusione perché comunque non è mai bello fare un autocall però mi ha dato quella spinta per poi ripartire nell'anno successivo e riuscire a togliere il mio figlio come si dice il calcio regala il fatto che adesso ti stai riscattando con la maglia della squadra dell'Empoli che affrontavi e hai già segnato due gol in quella porta è vero, è strano, infatti ci avevo già pensato a questa cosa